L'anticipo di Piano Daccio regala emozioni a grappoli tra San Nicolò e Maceratese sotto forma di 4 gol, 3 espulsioni e tante recriminazioni su ambo i fronti. Il De Amicis 2.0 riparte dal 4-3-3 Cifaldiano, ma le novità non mancano. Il riferimento centrale offensivo è il Bebitroccoli, mentre a Di Michele sono affidate le chiavi del centrocampo. Nei biancorossi ospiti invece la mente del gioco è l'ex pescarese Luisi, ma i riflettori sono tutti puntati sul temibile tandem offensivo composto dal Melchiorri e dalla vecchia conoscenza della mana Mario Orta, 24 reti in due sinora. L'approccio dei locali è buono, Paris è sempre il più intraprendente dei suoi. Prima per poco non beffa Marani con un tiro a giro. Al decimo trova proprio i guantoni dell'estremo ospite dopo una bella iniziativa personale. La reazione marchigiana però è subito mortifera. Corre il diciassettesimo quando Orta vince un rimpallo, si libera del diretto marcatore e consegna un assist d'oro che l'ander romanschi trasforma nello 0-1. Il match è già in salita per la cenerentola del girone che però ha il grande merito di non disunirsi, cogliendo il pari al minuto 34. La sfida a Paris-Marani si ripete, ma stavolta sulla ribattuta il più lesto di tutti è Troccoli che urla di gioia per il meritato 1-1. Se il San Nicolò è ultimo però più di motivo ci sarà. La facilità con cui viene saltata l'intera retroguardia al 42esimo con un lancio lungo e imbarazzante. Melchiorri ci mette la punta, Merletti è providenziale. Il portiere biancazzurro nulla può al primo di recupero quando la fase di sonnolenza difensiva prosegue. La palla sembra un flipper, Orta non perdona e riporta in vantaggio i suoi all'intervallo lungo 1-2. Inizia la ripresa, il San Nicolò è sempre vivo in questo caso con il fendente di Di Michele. Il cliché del match cambia tuttavia radicalmente al minuto 59. Capitano Petronio becca due gialli discutibili in 30 secondi e si fa espellere. Paris scaglia la sfera addosso all'arbitro Calogiuri di Lecce che estrae un altro rosso. Risultato San Nicolò in 9 contro 11. Eppure Padovani a creare un brivido a Marani qualche istante dopo baciando la traversa. Vibranti proteste sannicolesi al 68esimo. L'intervento sulla stessa punta che il direttore di gara giudica falloso è in area. Per Calogiuri è solo punizione dal limite. Sui sviluppi Ferraioli spreca sulla barriera. L'evidente vantaggio numerico non si vede sul campo. Solo al 78esimo Romaschi chiama l'appello e il neo entrato Ciccarone. La maceratese si spegne lentamente. I terramani non mollano e all'ottantaduesimo centrano l'insperato 2 a 2. Gabrieli viene lasciato solo soletto nel cuore dell'area e con la sua arma preferita supera Marani. Passano 120 secondi ed è Melchiorri a farsi espellere per doppia munizione in maniera ingenua. Nei cinque minuti di recupero ci proverà solo Orta in vano. Finisce con la curva maceratese che fischia sonoramente la propria squadra. Rea di un atteggiamento stranamente remissivo. Più che apprezzabile invece è la tenacia mostrata dagli uomini di De Amicis. Ma il punto guadagnato serve a poco. Per i miracoli ci si può sempre attrezzare. Mister De Amicis, 4 gol, 3 espulsioni, un arbitraggio mediocre e tante recriminazioni. Sì, perché per come è andata la partita, per come l'abbiamo fatta, soprattutto nel primo tempo, secondo me meritavamo veramente molto molto di più. La squadra ha messo in campo quello che avevo chiesto, cioè grandissima attenzione, concentrazione, ma anche tantissima qualità. C'è stata, intensità, un po' di tutto. I ragazzi hanno fatto veramente una grandissima partita. Per quanto riguarda il primo tempo. Il secondo tempo non riesco tecnicamente a giudicarlo, perché secondo me è stata falsata dalle due espulsioni. Soprattutto la prima di Petronio, il secondo giallo veramente inventato. Quello di Paris ci può stare, è stata una relazione affrettata. E poi comunque il calcio di rigore di Padovani, altre situazioni che mi riesce difficile commentare il secondo tempo. Pareggio che non serve praticamente a niente. Abbiamo fatto una brutta cosa oggi sul 2-1, 11 contro 9. Poi è una partita che devi chiudere subito, invece l'hai lasciata aperta e hai dato la possibilità a San Nicolò, che meritatamente ha raggiunto il pareggio. Noi siamo stati molto... Vi ha mollato un attimo, pensiamo di aver vinto e questo non deve mai accadere.